Oh oh Sento Sei qua Sei qua baby Dov'è? Dov'è cacchio è? Sentilo Sentilo come urla Porca vacca Che fastidio Posso rompere questi? No Niente Ah vedo che c'era un Ok Dov'è cacchio stanno? Piano 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 Maledizione sti cambi di robo Forza Uno Te mi attacchi? In un modo o nell'altro? No Un salvataggio Va bene Perché non ci sono? Perché non escono? Non capisco Cioè ci sono ma non me li trova Che cacchio ho visto? Raga Eh Ok Ma che cacchio è successo? Piano 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 Cosa fa? Ah ok La scarica Raga Cioè aveva Era dentro la tana Era tipo come se fosse la sua tana Ho capito? Allora non sono tipo Boh Ah No Pensavo che fosse un Una sua preda morta magari Che se l'era presa E cacchio era una tana Quindi anche gli altri sono nascosti Ecco perché me lo segnala Ma non ci sono Maledetto Ah Sbagliato Ma che cacchio sta succedendo Con sti robin? Attaccami normalmente Schifoso Maledetto Vieni addosso Dai No così Perché non salta bene Sam Attaccami No non devi volare Ho detto attaccami Non volare Cosa fa? Esplode Maledetto Guarda come rosso Ma poi io raga Sono sicuro Sono sicuro Al 99% Questo Questo è incompleto Questo è incompleto Allora Ehm Non vorrei dire niente Anche perché non lo so Però Da qualche parte La regina metroid Devono metterla E io non lo so se è in super Io so che c'è Ok Nei giochi di metroid Noi l'abbiamo vista una sola volta La regina metroid Ed eravamo su Su The Ram Che non era quella vera però Ehm Aspetta io sono andato sopra Vero? Tipo Intanto Qua cos'è? Un teletrasporto? Ah Ah no È un ascensore Noi abbiamo visto Una sola volta La regina metroid Guardalo come Guarda come impazzisce Porca vacca è qua È dentro la tan ancora Maledetto Sarà un po' complicato Va bene Aspetta ma se tipo lo lascio libero? No Non credo sia una buona idea Comunque noi La regina metroidine Ne abbiamo visto una Ma so che In teoria Appariva anche in un altro gioco Per l'appunto non mi ricordo Se era Super O O il 2 Sono un po' propenso Per dire il 2 Perché avrebbe anche senso Come cosa Ma no Ma un altro di questi Madonna Ma cos'è il Ah ok No sto guardando che Oddio effettivamente potrei Trivellarlo Sì perché non dovrei farlo? Maledetto Schifoso Piano Ok Raga io lo voglio Trivellare Beh Non l'ha sentito Particolarmente Però un po' l'ha sentito Fatemi vedere se col ghiaccio Cosa? È scappato? No No Non mi puoi dire Che vai in mezzo alle basi così Ma che cacchio mi sei dicendo È andato dall'altra parte? Ma è sempre lui? Raga Fermi Spiegate Ma che cacchio succede? È sempre lui È mezzo morto È mezzo Insomma Ancora bello pimpante Però Porca vacca Ma che rottura di palle Comunque sì Non so se Notate benissimo Che è diventato lo stun Guarda che pezzente E poi che lo recupera più? E dove è andato? È andato di là Ha fatto un giro Astruso Sì ma dai Ma che delirio Per ammazzare un robot Che ti gira Attorno così Sei venuto di qua Ma va a cagare Va Tre quarti d'ora Per uccidere nemmeno Ho già capito Stai ti devo andare Con la lanciafiamme Dai forza Piano Toh Schifoso No dai Questi messi così No dai Perché ti girano Attorno in quel modo Per favore Vorrei provare Anche un'altra cosa No vero Niente Pensavo Magari No eh E allora Fatemi vedere Perché a questo punto L'ascensore L'assolto Mi sa che non possiamo usarlo O sbaglio Samus Ok L'ascensore là sotto Mi sa che non possiamo usarlo Perché era bloccato Non mi ricordo neanche già più Va bene E oltretutto si chiudono le porte Bellissimo Si chiudono le porte Sì ok Era bloccato dal raggio E quindi dovevamo passare dall'altra parte Ehm Lì c'è un salvataggio C'è arriva Yes E queste mi sa che hanno la ricarica di qualcosa Missili Non è che c'è un altro qua dietro vero Anche perché sai È possibile Magari non in mezzo all'acqua Sì ma io c'ho tutta un'altra roba Da esplorare Oh dobbiamo stare calmi Cioè io Penso di aver dimenticato Tutto il roba là sopra Oh grazie mille Piano Sprecare queste cose Doviamo trovare un modo Per Aprire Aprire Bello sto posto Interessante Scusi Ragazzi Come cacchio esco io Oh lo vedo Ah è qua Bene Ehm No vedo che C'era il Da qualche parte si sta attivando Da qualche parte c'è un Un bambino Uh Si può? Grazie No No Guarda che sono infami No Ma siete infami? Ok Se mi chiedeva la gigabomba Mi arrabbiavo Io lo dico Basta basta Spercare il lion Qua non c'è un cacchio Niente Basta È da qualche parte di là Allora qua c'è le fiamme Che possiamo resisterli Se son fiamme Lava No Lava cattiva Cos'è sto schifo? Basta usare il gancio No tieni il gancio Tieni Piano Non puoi andare nella lava Samus Che cacchio stai facendo? Buono Buono in un attimo No ma va Dà fastidio usarlo così Perché non lo capiscono? Dai levati Ok Aspetta ti vuoi levare? Devo passare in mezzo alla lava? Impazziti Impazziti completamente Ok Si fa molto più comodo così Ah ma io Io facevo di fretta Con la roba verde Ma la consumo solo Quando Mi toccano Io sto andando In un posto Che Orca miseria Sto cambiando un attimo L'arma Io sto andando In un posto E dietro Ho lasciato il mondo Ma vabbè Dove vai a te? Fuori Ma 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 Cambio arma di continuo Devi cambiare arma perché non puoi combattere con questi Va bene Non puoi cambiare arma con Cioè non puoi combattere con il raggio gancio C'è proprio un qualcosa che non va bene Oh 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 grazie Vabbè questo poteva impararlo Grazie che mi danno i bambini Però li stanno mischiando raga Non so se avete notato To Fa co Li stanno mischiando Prima c'erano solo Alpha Che dovrebbero essere quelli Poi In teoria Ehm Quelli sono un'altra evoluzione di roba Che non so se Sono i beta Forse no Alpha beta Ci muoio Adi Per forza Che cacchio devo farci Sano anche se ci posso andare Cioè di sicuro non ci posso andare Però Dato che penso che sono anche Con un po' troppa vita Mi fai rifare la battaglia no Allora sono con un po' troppa vita io in realtà eh Tira via No non si può fare Non è il momento Sono Penso di essere in un posto che non Non devo essere io Non devo essere qua Ma in realtà dovevo già capirlo dal fatto che all'entrata mi aveva messo la lava Quindi Già da lì per forza non Non potevo starci Allora fatemi vedere un attimo A dove cacchio devo andare Perché Ehm Qua Ascensore non posso utilizzarlo perché Bisogna passare dall'altra parte Qua Il robo giallo non possiamo ancora sfondarlo Qua c'è tutta la lava e niente Ehm Ah di qua dove ci avevamo prima Che adesso io ho capito Ci sono le tane Questa è la zona dove ero morto che non me l'ha Non me l'ha più ripresa eh Ehm Dove c'erano le tane Eran tane a questo punto Quindi Ci tocca tornare là Ma che cacchio Ah fermi 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 Io qua posso salire Aia Volevo vedere se sopra c'era effettivamente qualcosa Ed effettivamente c'è qualcosa Piano Ok Io qua posso salire Vero Fuck No Niente Non posso salire Come ho detto Cos'è quella porta verde? Il mostro mi sa Il mostro con gli occhi strani Ok Eccomi a casa papà E adesso Andiamo a trovarlo Perché tanto È nascosto da qualche parte Lui c'è È qua Bisogna solo capire La sua tana Dove cacchio sta Vai pure Tanto ci saranno i rovi da Da rompere no? Ma è sopra magari? Non capisco perché Lì sotto c'è un No Lì sopra non c'è niente Non capisco perché Ah magari anche lì Lì in mezzo Alla sua tana No? Sentire come urla Lo schifoso Sei qua? Sembra strano Tanto è da qualche parte qua Oh 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 Aspetta Ah no ma aspetta Quello è il pezzo Che avevo aperto No? Sì per arrivare sopra Però effettivamente Può essermi utile anche questo Magari è qua E adesso non mi ricordo neanche più dove Dove avevamo già aperto Cioè queste sono le sue due zone Suppongo Quindi lui deve essere da queste parti Il problema è riuscire a entrare A far uscire dalla tana In realtà mi è venuta in mente un'altra idea Andiamo altra e trasporto E ci buttiamo qua Dove in teoria ci dovrebbe essere il Quasorosso da prendere Magari anche di qua Perché stavo pensando Che sotto di noi Vedete lì sotto C'è un'altra zona E io non vorrei che a sto punto Il metroid avesse tre zone E noi ne abbiamo due per adesso E lui è nella terza zona Per sfiga Magari è nella terza zona Boh Non so come Come farlo uscire da lì Quindi penso che adesso Faccio un attimo un altro giretto Da quelle altre parti Tanto è sempre area 3 Invece Invece Porca vacca Bastardo schifoso Vieni qua No non stai qua Samus Eh vabbè Brutto maledetto Ecco la zona Dove si trova Maledetto Fai Fai i tuoi attacchi Elettrici Brutto baghino Easy Non è vero Il cacchio È un maledetto E basta Va bene Questa me la sono meritata Da stupido Anche questo Mi sono meritato Ricarica 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 Un po' di ruolo Piano Però effettivamente Guardalo Guardalo E adesso se ne va Ah se ne è andato proprio Non mi segna dove va Ok Vabbè sappiamo Sappiamo che era L'altra zona Porca vacca Perché ho sparato qua io Con le bombe No fammi capire Come ci sono arrivato Boh C'era un sasso particolare Ma che cacchina è sto Vabbè Guarda sta bombe Sei andato di qua Sei andato No è nell'altra Nella terza Porca vacca Perché infatti ho visto Poi ho detto Magari devo fare Un altro giro Oppure ho anche pensato Che magari fosse Un altro Com'è che si dice Un altro Non ci arrivo vero Da sotto Tipo ho detto Devo fare un giro strano Da sotto Ci arrivo Stupido Balordo Ehi Ah va a caso Porca vacca Guarda che tra l'altro Non mi ha salvato Neanche le aree Ma vabbè Ma chi se ne frega Va a caso Quel robo Raga C'è Può andare nella zona 3 Come può andare nella zona 2 Come può andare nella zona 1 Eh sarà qua Ah Madonna Non mi sto preoccupando Ho detto Se ce n'è un'altra Se ce n'è un'altra Le botte Piano Questa Si chiama Casa mia Meccanica Da infami Il fatto che Ste bestie di satana Possano Teletrasportarsi in giro Per il mondo Sì Vieni qua Vieni Schifosa Nella testa Vai via Vai Oh Supplica Il perdono Che non avrai Fuck yes E siamo a 6 Raga Siamo a 6 Ora Vabbè niente Ora posso fare quel cacchio Che volevo far prima Ovvero tornare indietro Adesso che abbiamo Il raggio gancio Per spostare Per spaccare il robo rosso Possiamo farlo Allora Dicevamo Qua c'era il Esatto Lo schifezzino Che poi in realtà Adesso ne abbiamo diversi Il problema è che Non me li ha segnati Il gioco Piano Piano Levati Stato di distruggerlo Si può? No Dai fuori dalle panni Non me li ha segnati Il problema è quello Basta Sapevo che facevo la cagata Non me li ha segnati Perché non c'avevo Fuck Eh si Allora Qua sotto c'è un potenziamento E penso che passerò prima da quello Oh oh C'è un metroid Ma non è qua Non può essere qua A parte dove è il potenziamento È qua Dove è qui Mi pare Circa 96 missili Allora il metroid è sotto Solo che per andare sotto Non mi ricordo cosa c'era là Che ci bloccava Vedete che comunque c'è una porta Ma non so com'è Arrivarci Ma sicuramente Ci sarà anche un qualcosa qua Ok Non posso combattere con il raggio Quello Porca di quella vacca Mortacci vostra Capisci 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 niente Lo sapevo Indecille che sono anch'io Ma è troppo difficile Cambiare i tasti così Io mi immagino alle persone Poveracce A cambiare i tasti con il naso Cioè Per usare il tasto E col naso Ci si vengono attestate al 3ds E cambia il raggio Perché non ha senso Non ha senso È stupida Cioè non è stupida È Difficile Troppo pro Cioè un conto è se è difficile Perché non sei skillato Un conto è se è difficile Perché non hai le mani Non hai abbastanza mani Alla fine Quello è il problema Cioè Se Con uno devi usare dei tasti Con l'altro devi usare un'altra Il tasto come cacca lo usi Che poi per fortuna Che devi usarlo poco Cioè Devi Non è che tipo Devi Devi sempre usarlo Quel raggio O quell'altro Che sia Il ghiaccio ancora Bu Il ghiaccio l'abbiamo usato Pochissime volte Soprattutto Prima si usava Per saltare sui nemici Poi Bu Io vado avanti di qua Va bene Tanto Questo cos'è? Un altro? Yes Spaccato tutto Oh merda Ok Ehi Scusa Tuve cacca sonnano? Raga? Scusa 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 Scusa